Dai un soldo al paesiello che compra un modello, che compra un modello, oh oh oh, dai un soldo al paesiello che una storia ti narrerà, dai un soldo al paesiello che compra un modello, che compra un modello, oh oh oh, dai un soldo al paesiello che una storia ti narrerà, dai un soldo al paesiello che compra un modello, che compra un modello, oh oh oh, un soldo al paesiello che una storia ti narrerà, Oh Fra, devo fare una nuova armata dipinta, c'è appena uscito un nuovo Aos, così smettere di utilizzare le miniature di un ventorneo? Calma, vediamo, quello vediamo dopo, però sto pensando a un nuovo schema di colore per i miei stoner, ma che figata? Questo sarebbe lo schema di colore, ma questa è l'idea, ma che bene fa, ma domani tu che sei avvocato, esiste il reato di tortura di miniatura? Se c'è siamo lì eh, ma dai, allora peggio di quello del doc no, però questo almeno è uno schema alternativo, cioè si può... Parole grosse, parole grosse da parte tua, ma vabbè dai su questo si può lavorare, ma guarda che carino, ecco questo con i nuovi contrast, ma che bello, No, quello era un esperimento, ero un po' nervoso quando lo... Eri fuori di te Eri fuori di me, avevo un diavolo per capello Un angro per capello, non parliamo di angro No, non parliamo di capelli No, ti stavo dicendo, volevo mettere giù questa cosa qui Aspetta, aspetta, aspetta Pronto? Weee, signor Giovanni Workshop, come sta? Sì, 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 tutto bene E qui, è qui, glielo passo Pronto? Weee, Giovannino, ciao! Ciao, ciao, tutto bene, come stai? Eh, no, no, guarda, li ho visti, li ho visti l'altro giorno, sì, guarda, mi sono piaciuti Fai i complimenti ai ragazzi, perché questi nuovi elfi che sono usciti mi piacciono veramente un sacco Però, sto teclis, Giovanni, però, te lo dico in amicizia Eh no, lo so, lo so, lo so, lo so, però, guarda, mi avete messo il pigiama Che fai, tocca, no, no, non ce l'avevo con te, scusa, Giovanni, non ce l'avevo con te Eh, sì, ah, veramente, ah, un nuovo bistro è iniziato, ah, bellissimo No, sono molto, molto contento, grazie Sì, però, non ti dimenticare poi di fare il pacco a fine mese, di me, se c'entro anche la, la tassa a paesiello E mi raccomando, perché noi stiamo facendo, stiamo facendo proseliti, però, giustamente, non ti dimenticare Che io, tra un po' vengo a notte E torno e comincio, eh, taglia Ciao, Giovanni, ti devo lasciare, perché c'ho, c'ho da fare Mi raccomando, hai continuato così e fatemi sapere i primi nuovi guerrieri del caos Cioè, mi raccomando, sì, ciao, 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 sì, sì, glielo dico, ciao, ciao, sì, sì, ciao, 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 ciao E quindi? No, volevo sapere cosa le pensavo dei nuovi elfi Ma se le disegnate tu, praticamente Eh, lo so, però, è che posso prendere tutto il merito, dai, cioè, se no Comunque glielo dico, che dobbiamo vedere chi mi ha messo il dislike, perché anche lui era... Ancora con sto storico Tutti possono piacere i tuoi video Guarda caso, i tuoi video hanno dei dislike, i miei no Ho capito, ma tu sei la diva, ma se non gli piace il mio video, che stessero zitti e non mettessero giù niente, ti sembra Hanno l'opzione di mettere il dislike e ti mettono il dislike Che l'hanno messa a fare l'opzione Eh, ma te che ti frega Ho capito, però È un 1 o 2 Io non ci tengo, però, che c'è chi l'ha messo Ma se ieri sera cittofonavi casa per casa No, un po' ci deve Che pensavano fossi Salvini, eh E lei ha messo il dislike Questa la mettiamo sulla pagina, questa Eh, no, meglio di me Vabbè no Eh, vai dipingi Dai dai, ma ti stanno dicendo Ho tirato fuori questo schema di colore Sì, ma lo sai è vero che non li finirai mai in tempo Eh, vabbè, piano piano Eh, vabbè, piano piano Vado piano piano, sono 40 anni, quindi si è piano piano ancora Vogliamo parlare dei templari neri Eh, tra l'altro l'altra sera Qual è lo schema di colore dei templari neri? Il nero Eh, beh, io faccio un nero particolare Un nero particolare Un nero particolare Usa di particolarissimo Perché dentro ci sono 4 colori e non c'è il nero Ahja Ahaha Altra catt 2016 Perché Tu non finisci i modelli Perché Ci domandiamo, no, no Però sono belli Ah Sono abbi E sì, beh, che… sono Arlecchini Vinto, vinto, migliore armata due volte Con la stessa armata Con la stessa armata E ho capito 20 anni fa, però Sì, era, non so È un'altra vita Potrezzamente potrei sentire il... Il Doc Si ha uno schema di colore Magari che... E sentiamo il Doc Magari ti aiuto Lo chiami tu? Che ci vuole? Oui, il increasedrico E' stato veloce. Basta chiamare. Assolutamente sì. Ciao Doc, tutto bene? Come stai? Tutto a posto? Vuoi una catrega? No, grazie. Lui è alto già così. Che si combina? Guarda, noi stavo, volevo dipingere una nuova Stormost per il migliore, per il primo e migliore armata dipinta. E' ho pensato uno schema molto bello su verde acqua. No, siccome, sai che io sono molto... Ho sentito discorsi di nero non nero. Ah, questo nero non nero, guarda, non lo devo brevettare. È il nuovo metal non metal, quindi. Questa è una... Cioè, ragazzi, sta cosa qua potrebbe fare scuola, potrebbe arrivare nei libri. La maglietta dei custoders. Beh, infatti... E l'altra era lavare. L'altra era lavare. Però questo è che mi contraddistingue. Due magliette al paese. Però guardate il numero. Eh, ci sarà da dire qualche cosa anche questo qui. No, stavo dicendo. Volevo fare un bellissimo schema di colore basato sul nilax oxide, molto sul turchese. Perché? Perché il turchese è eterico? O eterico? No, eterico si può dire, si può dire. Sì, sì, sì. Allora, l'oxid, sì, è interessante come colore. L'alternativa, volendo, potrebbe essere giocartela con i contrast. Eh, anche questo potrebbe essere interessato. Perché il thermatic blue è un colore bellissimo. Ma non è quello che macchia maledettamente? No, 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 no. È molto tenue come resa. È molto interessante. Ti fa un azzurro non azzurro che... Così. Però questo qua è fatto con rosso. No, quello era stato un momento un po' di... Era un... Stavo cercando lo schema di colore e mi è preso un momento di... Che ero? Fa un po' molti col tempo. Si è isolato troppo. Con la lingua adesso. E qui c'è... La calma prima della tempesta. Mi devo usare lo spazio. Ma non faccia! Va bene? Va bene. Non so se vuoi sentire la risposta. Ma sono tipo... Ma tu lo sapevi che mettono i dislike al video del paese? Ma tu hai capito? Ho sentito, si. Ma tu hai capito? Ma tu hai capito che uno fa tanto, studia, si mette lì, fa tutte quale delle cose, poi passa il primo picciurlo del cambio... Picciurlo! Voce del verbo picciurlare! Picciurlare! È un'etimologia, eh? Si, si. Gente che mette dislike almeno dice sotto vedi... Dal latino... Picciurlus. Ok. Picciurlus, Picciurlis, Picciurlus. Alla gente l'avevano a mangiare i leoni. Solo per i dislike. Solo per i dislike. Infatti solo l'imperatore poteva... Solo l'imperatore poteva mettere dislike. E che se l'imperatore avrete ti dislike? Non lo so, c'è anche molte cose da fare. Lui impersonale. Lui medesimo. Chiamerò Giovannino e chiederò spiegazione. Cioè... Alla parte di nuovo... Ma a me non sono competitivo, ci mancherebbe. Però... Assolutamente. Per carità... Però posso spessare... Dici anche il video competitivo, oltre al gioco competitivo. Non lo so. Nooo... Non ci tengo tanto. No, no. Assolutamente. No. Allora, io lo dico. Qua lo dico e qua lo confermo. Si crea una brutta nomea su questa... Tra l'altro adesso ci sono anche diversi video tuoi che hanno più di un dislike. Eh, i vostri non ballano però. E che c'entrano i nostri? Noi lavoriamo per la guida. Esatto. Qui promuoviamo... Esatto. L'attività del canale. Eh. No, no. I vostri... Che c'entrano? Noi potremmo mai metterti in dislike una volta visto. Esatto. Cioè quanto hai capito? Cioè quanto hai capito? Cioè... Hai capito? Hai capito? Questo mi mettono di dislike. Cioè... Abbiamo sempre parlato. Hai le prove che mi mettiamo di dislike? Non lo so. Non lo posso verificare. Ma se riesco a verificarlo... Ah... Scusa. Scusa che è la mia amica. Metti dislike. Ciao Sara. Ciao. 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 Tutto bene? Grazie. Sì, sì. No, no. Sono qui con degli amici che stiamo... Stiamo dipingendo e... Si faceva un po' di chiacchiere così... Sì. Te l'ho detto che ho il canale. Sì, sì, sì. Infatti... Il canale è un braviglio. Che citto. No, no. Scusa Sara. Non ce l'avevo con te. No, no. E ti stavo dicendo... Sì, sì. Siamo qua che stiamo dipingendo. No, no Sara. Non un quadro. No, no. Ti ricordi quei modellini che dipingo i... Sara. No, Sara. Sara. Sarà caduta la linea. Scusa. Sarà caduta la linea. Sarà caduta la linea. Sì, sì. Qua era la maglia di intramarifero. Vieni, è la maglia di intramarifero. È la maglia di intramarifero. È da lavare. È quando suonero lo space cielo e l'aveva tenuto da paesino. Cos'era quel subisimo? Ah, 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 ah. Che cattiveria. In ogni caso, ci stiamo dicendo, questo schema di colore dovrebbe essere fighissimo. Vado a capire anche come fare le modifiche. Perché non è che posso portare un'armata. Tranne quella con cui hai vinto due. Da box art. No, da box art non ho fatto mai niente. Come l'hai mai fatto da box art? E chiami il doc e me lo faccio la sede. Dovevi chiamare Simo? No. No, no, no. Questo è solo per lo schema di colore. No, no. Ma poi puoi restare. Se si parla di modifiche, ammetto dei miei mancanze, non capisco onestamente queste devianze. Non stai calmo. Scusa. Cioè, devi dare un tuo tono personale. Perché quando si dipinge, ragazzi, è importante dare la propria impronta. Altrimenti se le faccio come quelle che stanno alla scala, per fatto con gli altri, sì. Però non c'è niente di mio. Infatti non c'è mai niente dei tuoi tornei. Sono sempre di Umb. Perché Umb è... Cioè, si onora nel testarmi i suoi stori. Si onora. Che cazzo! Non sento come la voce di Umb. Per un attimo. Madonna. Che sarà che è Umb in questo momento? Eh, non lo so. Sai che forma sarà Umb in questo momento? Esatto. Sì, questa storia mi sta un po' sfuggendo di mano questa storia. Ma, tra l'altro, non ha detto che tratti male i personaggi che seguono la guida. Abbiamo avuto la testimonianza di Mirko. Ah, no, no, no. No, no. C'è quella. Io chiamerei Mirko a questo punto. Mirko! Non è mai successa una cosa così. Io non tratto mai male i miei follower. No, no. Non è possibile. Cioè... Dicono in faccia! No, 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 no. Però state caldo, cioè. A casa mia state caldo. I tuoi video, vai, sono bellissimi. Ah, allora lo puoi picchiare, vai. Cioè, come è che mi metti dislike, però? Mi metti dislike. Mi metti dislike. Sono bellissimi i tuoi video, vai. Per vedere il telefono. Mo' subito. Iscano il telefono. Io ho gli unici dislike che metto sui video del Doc. Tu non ne ho gli dislike, però. Ah, perché? Perché ti la cancella, ragazzi. Però io non posso cancellare. Certo, ti cancella tutti. No, però, effettivamente, questa cosa, visto che siamo qui, si può chiarire. Tanto voglio dire, abbiamo il servizio security. No, non c'è niente da chiarire. Il Doc è una persona ifima. Non fidatevi di lui. A Lugano tutto è che è. Ma di brutto brutto brutto. È una bestia riccioluta. Non fidatevi. Quell'occhiale un po' firmante mi ricorda qualcuno. Ma adesso mi prendi in giro perché ho gli occhiali. No, 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 no. L'avete visto, ragazzi? No, no, no. Io ho assolutamente visto. C'è qualcosa con gli occhiali. Anche con gli occhiali. Anche con gli occhiali. Anche con gli occhiali. Razzista. Sì, però Mirko, questa cosa va chiarita. Perché effettivamente è una macchia sull'onore della guida questa accuma. Eh, buttate fuori il Doc. È molto semplice. E no, qualcuno che serve a dipingarci ci vuole. Posso farle tutte io le lumi. Basta un bianchino da 3 euro. Doc, dica qualcosa. Risponda. Ognuno ha un suo ruolo all'interno della mia. Non importa quando piccolo e modesto. Fate dipingere il Mac. Fate dipingere il Mac. Ho visto che dipinge anche benissimo. Oltre che convertire molto bene. Eh, ma poi cosa facciamo? Un parere di un fan. Come possiamo finire di dipingere questo modello? Vediamo con il Milax Oxide cosa viene fuori. Ma poi con Sara com'è andato? Ma non lo so, mi devo caduta giù la linea. Non eri più richiamata. Adesso sta impegnata, se non lo avrebbe chiamato lei. Ma le altre 14 con le quali stai uscendo? Non diciamo. No, questo è pericoloso questa cosa se fai in giro. Non è vero. Non è vero. L'ultima volta. Guarda, io ho le mie donne. Poi hai cominciato a fare un elenco. Non te lo hai fatto anche l'elenco? Non diciamo. Hai fatto anche in live. Non diciamo. La frase è molto simpatico, a differenza del Doc che invece è molto antipatico. Quest'ultimo scan... No, io non metterò queste aree. Sei sicuro? Sono sicurissimo. Alquanto. Non trovate il video. Prego, prego. Dipingi sereno. Ma no, attento col pennello quello. Calmo, che questo mi sembra. E guarda, no. Così. No, no. E come il Tarion. E non mi sembra proprio il Tarion. È una modifica. Però io se vi ho fatto venire qua, vi ho invitato, non è che possiamo... Cosa? Vi dovete far lavorare. E lavora. Perché io già sono... E guarda, e guarda. Questo movimento sussultorio. E io ho dipinto una volta in ginocchio. E lo faccio. Ma perché dipinto in ginocchio? Perché avevamo fatto, tanto tanto tempo fa, una competizione di pittura quando erano usciti i nuovi... Tu dipingi che devi stare attento. Questo è tutto lo voglio chiarire. Come il Tarion. Come il Tarion proprio. Ragazzi, esco perché non riesco a respirare. No, no, no. Io ho. Però, comunque questa storia diciamo che non credo sia finita. Quindi... Sarà finita solo quando butterete fuori il nome. Tu raccogli le accuse e poi valuteremo nel Gran Consiglio Direttivo... C'è qui, mi regali, mi regali su, può entrare. Sempre così. No, no. Sono io che voglio collegare tutti e due. Ovviamente. Sì, sì. Io voglio il Vice. I tuoi video sono bellissimi. Mi raccomando, in base al numero di pupazzi poi capiamo cosa fare. Assolutamente. Vabbè. Hai chiamato Giovanni Morso. A proposito. Ciao, amici del Neck. Ciao, Mirko. Ciao, ciao. Io prima che si parlava di tassa Paesiello. Ma certo, tassa Paesiello. No, no, no. La tassa Paesiella, praticamente, lo spiego anche a chi ci segue. Tu fai disinformazione, posso raccontare? No, 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 parlo io. La tassa Paesiello. La conosco molto bene. La tassa Paesiello. C'ero quando è stata creata. Praticamente oggi, quando un nuovo hobbista nasce, quindi comincia ad andare in negozio e compra quindi il set base per cominciare i primi modelli, e c'è una tassa paesienica per cui è obbligato a comprare un modello da donare a Paesiello. Ah. Non c'era così. No, è un patto che avevamo fatto con il... Nel mondo. Con il signor Giovanni. Nel mondo. E lui ogni mese mi fa il pacchetto con un po' tutte le decine. Su due litici. Ok, su due litici. Grazie. Dalla regia mi sono reso conto che avevo dimenticato di mettere l'acqua nel... Nel canestrino. Gli hobbisti quelli veri usavano lo sputo. Bah! Non lo so. La pittura al corno. Esatto. Un soldo al Paesiello che compra un modello, che compra un modello, oh oh oh. Un soldo al Paesiello che una storia ti narrerà. Ah 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 solo per i paesielli ormai gli accoliti paesielli qui